allora sto decidendo qui se abbandonare anzi sai cosa faccio io mi piazzo mi piazzo mi piazzo in questo campo le mie spalle così mi vedono solo che adesso se giro davanti davanti alla chiesa non so se piglio vabbè iniziamo sennò qui facciamo tardi già il tempo quello che è non 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione